Buongiorno, sono Francesco Tosi e sono il titolare dell'azienda agricola. L'azienda è ubicata in provincia di Lodi, precisamente nel comune di Guardamiglio. Siamo appunto in Lombardia, nella provincia di Lodi, ma molto vicino a Piacenza, che è Emilia Romagna. L'azienda è di circa 150 ettari. Con la precea seminiamo prevalentemente mais. Poi dedichiamo una superficie a mais dolce, soia e fagiolo borlotto. Io non ho una macchina, non ho avuto una macchina precedente, in quanto è la prima seminatrice che ho acquistato. Però se la posso confrontare con quelle utilizzate in precedenza dai terzisti, dico che mi sembra molto più semplice. E' semplicissima da utilizzare, da usare anche un bambino. Beh, la macchina intanto non è una macchina pesante, quindi è comoda da spostare. Ha quel grande vantaggio che è il trasferimento di carico, per cui anche se non è una macchina pesante, riesce comunque ad avere un carico sufficiente per seminare quasi su qualsiasi tipo di superficie. È una macchina che ha un monitor molto intuitivo, semplice da capire, quindi la chiamo una macchina facile. E poi ha il grosso vantaggio che ha il selettore automatico, per cui è un pensiero in meno dal punto di vista delle regolazioni. Allora, nella mia azienda i tipi di terreni prevalentemente sono di medio impasto. Abbiamo zone però dove è prevalente la sabbia e zone invece dove è molto prevalente l'argilla. Sono terreni forti, diciamo. Però in linea di massimo è un medio impasto. Precipitazioni poche, è uno svantaggio, però abbiamo anche la fortuna che è molto raro che qui si manifesti le grandine. Tra la sfortuna che non piove comunque abbiamo poche grandine. Preciello scelta perché io ho già avuto macchine a Mazzone e diciamo che mi sono un po' innamorato di questo marchio, per cui non è appena uscita la nuova seminatrice non ho pensato un attimo e l'ho acquistata. Grazie a tutti.